Maestre, ha aperto la porta convinta, come le era stato detto al citofono, che dovesse fare una firma per ricevere della corrispondenza. Invece ha ricevuto un pugno in faccia da un uomo incappucciato che gli ha intimato di consegnare il denaro che aveva in casa. Quello avvenuto ai danni di un anziano in un appartamento di via Adda è stato un blitz rapido e particolarmente violento, forse condotto da due persone. Sulla rapina, fruttata all'incirca 300 euro, indagano i carabinieri. La donna è rimasta lievemente contusa, ma non è stato necessario il ricovero.